Vi annuncio che per quello che ci riguarda manterremo in Campania l'obbligo della mascherina per i motivi che vi ho appena detto e anche perché a tutt'oggi noi abbiamo credo 1100 positivi, 100% asintomatici, quindi non abbiamo ricoveri in terapia intensiva negli ospedali, ma la situazione se si trascina nel tempo può poi determinare anche i ricoveri. Quindi io credo che manterremo l'obbligo all'esterno della mascherina, anche perché voi sapete che si determinano a volte i meccanismi imitativi. Se si decide che è facoltativo mettere la mascherina, togliere la mascherina o metterla dal 5 luglio o dal 15 luglio, alla fine ci saranno soprattutto ragazzi che saranno imbarazzati a camminare con la mascherina quando magari la gran parte dei loro colleghi non porta la mascherina. E' uno dei motivi per i quali credo che noi manterremo l'obbligo di indossare la mascherina anche in estate, poi è evidente che se vai a mare te la togli, è evidente che se stai a casa te la togli, è evidente che quando vai al ristorante, ma in generale si manterrà l'obbligo della mascherina anche all'esterno. Anche qui si fa una comunicazione di questo tipo, te la metti in tasca, poi quando arrivi vicino a un... non funziona così la vita sociale, non funziona così. Quindi bisogna dire che quando cammini a solo te la puoi togliere, ma quando vai in aree frequentate ti devi mettere la mascherina, non è che te la metti quando arrivi a un metro di distanza o a 90 centimetri.